Sospiri, si parla di CAS, di SPRAR, di presunto arrivo di profughi e permanenza di profughi a Pescara e anche del business che ci sarebbe dietro. Questo è l'oggetto della conferenza stampa di oggi. Lei si rivolge alla Prefettura per sapere che fine hanno fatto alcuni profughi o presunti tali? La risposta della Prefettura è quella che conosciamo. Si sono volontariamente allontanati, cioè scappati, perché dei 1200 dell'anno scorso solo il 7% aveva diritto a un permesso di protezione umanitaria, solo il 20-25% ha avuto il diritto a rimanere qui perché scappava da guerre o carestie o persecuzioni, quindi di fatto abbiamo circa 300 persone al netto di quelle che ospiteremo nel 2019 che sono 630, che sono con un foglio di via perché non possono rimanere nel nostro territorio nazionale, ovvero sono emigrati clandestini, non hanno documenti, non hanno soldi e stanno cercando qualche modo per poter vivere. Penso che sia noto anche al sindaco Alessandrini che c'è un decreto legge che si chiama sicurezza, migrazione e giustizia che è in fase di conversione e tra poco sarà in fase di conversione del Parlamento. Giustamente, dovendo salvare a mio avviso un business milionario, si cerca di aggirare questa norma trasformando i CAS, che sono dei centri di accoglienza gestiti da privati, in SPRAR, che sono dei centri di accoglienza co-gestiti dal pubblico. Gli attuali gestori dei CAS, che sono ETA Beta e ARCI, abbiano una qualche voglia di continuare a gestire questa vicenda umanitaria che ha questi costi, così li comprendiamo complessivamente, non solo quelli di ETA Beta ed ARCI, stiamo parlando di circa 630 persone per il 2019 per una media di 34 euro al giorno, sono 630 mila euro al mese, per 12 mesi sono 7 milioni e 700 mila euro all'anno un discreto budget di impresa che credo qualcuno non voglia perdere.